Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. L'Italia è alle prese con l'ennesima circolazione depressionaria che si è venuta a formare a seguito dell'arrivo di un fronte perturbato dal nord Europa. Il maltempo insiste in queste ore serali e lo farà anche nella giornata di domani, soprattutto al centro-sud e soltanto lunedì assisteremo ad un lente graduale miglioramento soprattutto nella seconda parte di Pasquetta. Le temperature continueranno ad essere piuttosto fresche per il periodo, ben al di sotto di quelle che sono le medie del periodo. Per quanto riguarda la nostra regione, tempo che domani continuerà ad essere fortemente instabile a partire dai settori adriatici, pertanto fasi soleggiate si intervalleranno ad altre più coperte e con improvvisi scrosci di pioggia. Nevicate possibili oltre i 1100-1200 metri. A Pasquetta tempo irregolarmente nuvoloso e qualche isolata precipitazione, ma miglioramento sempre più evidente con il passare delle ore. Venti deboli dai quadranti nord orientali e mare poco mosso. Le temperature minime di questa notte comprese tra 1 e 8 gradi e le massime di domani stazionarie con valori compresi tra 8 e 13 gradi. Per il meteo è tutto, auguro a voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua. PASQUA PASQUA PASQUA